ciao a tutti oggi prepareremo il mojito ai frutti di bosco il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa ingredienti sono zucchero di canna succo di lime foglie di menta frutti di bosco rum e acqua tonica diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale lo zucchero di canna e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 veniamo un po sul fondo del boccale adesso versiamo i frutti di bosco e facciamo tritare per altri 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo adesso aggiungiamo l'acqua tonica il succo di lime e il rum e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4 il mojito ai frutti di bosco è pronto adesso lo filtreremo con un colino a maglie strette e lo serviremo in dei bicchieri decorandolo con dei frutti di bosco le foglioline di menta mojito ai frutti di bosco grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti